Bentornati in Evitude. Cominciamo il nostro allenamento con un bel warm up. Lavoreremo su tre movimenti, Cyclist Squat, Dynamic Push Up e Side Plank. Cominciamo il nostro allenamento con un bel warm up. Dovrete eseguire 4 barbies, 6 push up and release, 8 pistol alternati. Now I'm somewhere coolin' out in Australia, showin' y'all people how the things get done. When you stick to the roots, havin' great big fun. Radioactive. 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 E se lo chiudi in dieci minuti, ti lascia al posto auto per una settimana.